Riguardo al scuraggio, beh, innanzitutto ho visto che all'inizio, una delle prime slide, no? Quando si è chiesto la transizione gemella che cos'era, al 3% e nell'ultima slide intorno al 22%, quindi dopo aver fatto tutta la piacchierata e aver spiegato. Quindi questo è chiaro che va, come posso dire, a confermare anche quanto è stato detto dagli autorevoli e relatori, ovvero ci vuole maggiore comunicazione. Noi abbiamo la necessità di comunicare bene, di comunicare meglio, di comunicare quello che stiamo facendo e l'importanza innanzitutto della transizione ecologica, che essendo insomma un termine coniato già da qualche anno è entrato un po' nella forma mentis, anche negli atteggiamenti e nella consapevolezza degli italiani, ma anche quanto sia importante la digitalizzazione per quindi applicare tutte quelle tecnologie, tutte quelle innovazioni che ci sono per poter quindi affrontare seriamente una transizione ecologica. Perché dico seriamente e senza ideologie? Perché noi dobbiamo essere assolutamente pragmatici e concreti. Dunque noi abbiamo degli accordi internazionali e quindi tutti siamo d'accordo su riduzione delle emissioni, tutti siamo d'accordo che dobbiamo salvaguardare l'ambiente, tutti siamo d'accordo che l'ambiente va tutelato perché non abbiamo un altro da lasciare ai nostri figli, ma è vero anche che a un momento particolare noi dobbiamo garantire una transizione giusta, ecco potrebbe essere un hashtag, la transizione giusta, perché noi ci troviamo in un momento dove dobbiamo cercare di coprire la parte ambientale, salvaguardando quella che è economica del nostro paese e quindi deve essere anche una transizione che fa capire a tutti la consapevolezza e l'importanza anche di ogni, come posso dire, di ogni gesto quotidiano. Faccio un esempio, quanti, secondo voi, quanto gli italiani si sono resi conto che si poteva utilizzare meno energia nelle case, spegnere un po' più la luce, abbassare di un paio di gradi la temperatura quando c'è stato l'ambiente del collettore. E quando gli italiani hanno scoperto che si poteva evitare di fare centinaia di chilometri per andare a una riunione, a un convegno, a qualcos'altro, quando c'è stato il Covid che ci ha chiuso nelle case e abbiamo dovuto accelerare anche con tutta la parte di digitalizzazione. Questo per dirti cosa? Per dirti che ci vuole tempo, che però va fatta quella cultura ambientale necessaria per spiegare che si possono ottenere tutti i risultati, ma si devono ottenere con una gradualità che vada quindi anche a non penalizzare il settore economico. E quindi voglio soffermare sul discorso economico, perché ho visto sempre in una pagina del sondaggio dove dicono appunto che gli italiani, secondo gli italiani, questa transizione gemella deve essere pagata dalle istituzioni e quindi dal pubblico, che vuol dire che la paghiamo comunque tutti quanti perché sono i soldi, come dire, delle tasse, quindi è comunque una cosa che pesa a tutti. Ma in realtà noi invece dovremmo fare un ragionamento di coinvolgimento assolutamente della parte del pubblico. E' fondamentale avere questi paternariati pubblico e privato, perché noi non possiamo accollarci tutto. E quindi è fondamentale un lavoro di squadra, come ho sentito anche dalla professoressa Catarci, perché è un lavoro assolutamente di squadra e è un lavoro che va fatto insieme. Ecco, è evidente che noi come Governo stiamo già lavorando e mettendo in piedi tantissime misure del PNRR, soprattutto per quanto riguarda la digitalizzazione, penso alle reti, alle smart grid, quindi al loro rafforzamento, penso ai sistemi di monitoraggio ambientale, penso ai sistemi di monitoraggio idrico, soprattutto in campo dell'agricoltura, sull'agricoltura di precisione per ottimizzare quello che è lo spreco idrico. E quindi la tecnologia c'è e noi la dobbiamo applicare, abbiamo il dovere di applicarla proprio per non lasciare indietro nessuno, proprio per poter arrivare a raggiungere quegli obiettivi sfidanti di tutela dell'ambiente che ci siamo dati, senza sacrificare l'economia del nostro Paese.